Buonasera a tutti, diamo inizio ai lavori, chiedendo scusa per il ritardo. Questo progetto fa parte in realtà di un bando del Consiglio regionale della Puglia che con determinazione dirigenziale d'intesa con l'Anci ha voluto attuare questo progetto che ha durata triennale, rivolto ai comuni, biblioteche e associazioni culturali, per mantenere viva la memoria di Aldo Moro. E quindi la Biblioteca De Leo, d'intesa con il Comune, ha voluto partecipare a questo bando che ci ha garantito la presenza dell'On. Gero Grassi, che illustrerà alcuni percorsi fino a poi arrivare al termine della vita di Aldo Moro. La Biblioteca De Leo, già nel marzo 2017, ha aderito al censimento delle fonti, che è partita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in direttiva dell'Archivio Flaminie. E si è voluto creare un sito dove ben 33 enti hanno aderito, 33 enti a livello nazionale e internazionale, ed è un sito sul quale sono depositate tutte le fonti documentarie, fotografiche e scritti di Aldo Moro. Lo potete tranquillamente consultare sul sito www.aldomoro.eu. La Biblioteca De Leo ha partecipato, garantendo la scansione delle cinque lettere di Moro, che voi vedrete qui esposte in bacheca, di cui eravamo in possesso perché ci sono state donate nel 2003 dall'On. Carlo Scaracio Mugnozza, prima della sua morte. Il discorso che Aldo Moro tenne il 18 ottobre del 1975, qui a Brindisi, e che vedrete poi pubblicato sul testo a cura di Gero Grassi, e del quale discorso leggeremo alcune parti salienti. E poi le foto, le foto di Aldo Moro al monumento a Marinaio, le foto fatte in Piazza Vittoria, e le foto fatte in Contrada Lupia, mentre passeggiava nella masseria vicino a Mitrano, di proprietà dell'On. Carlo Scaracio Mugnozza, che oggi sono tutte depositate da noi in Biblioteca. Io lascio immediatamente la parola al Sindaco, e poi un breve mio, ma veramente di tre minuti, prima di dare la parola all'On. Vallegratti. Sì, grazie. Buonasera. Innanzitutto, il motivo del ritardo è il mio, diciamo. Purtroppo avevo anche altri impegni e si sono protratti. Chiedo quindi scusa per il ritardo. Voglio rubare solo un minuto, ringraziare innanzitutto l'On. Gero Grassi per la sua presenza, Sua Eccellenza L'Arcivesco, anche qui per la presenza, e ringraziare anche la Dottoressa Catrice Di Rocco, che qualche mese fa, due o tre mesi fa, mi propose questa iniziativa, questo percorso, al quale ovviamente ho subito, diciamo, aderito e convenuto sulla necessità, perché sono passati 40 anni dalla morte di Aldo Moro, questa figura va sicuramente sempre tenuta, diciamo, ricordata, e soprattutto anche per le nuove generazioni, che probabilmente anche per motivi anagrafici non la conoscono. È stata una stagione, quella degli anni 60 e poi 70 di Aldo Moro, una stagione che noi tutti sappiamo difficile per l'impegno politico, è una stagione in cui fu detta poi gli anni di piombo, e che probabilmente si conclude anche, anche se poi ci sono degli strascichi, con la morte di Aldo Moro, che cercava di nuove soluzioni, no, alla vita politica del Paese, cercando di coniugare anche la tradizione democristiana in compromesso storico con il Partito Comunista Italiano all'epoca, in una situazione politica molto difficile, l'austerity, condizioni, diciamo, di scontro sociale che erano all'interno del Paese, in cui si cercava di dare soluzioni. Ecco, al di là dell'esito, dei tanti misteri ancora legati ai 40 giorni furono, 55 giorni di prigionia di Moro, tutto quello che è avvenuto, io penso che sia importante anche proprio la figura umana di Moro, che viene fuori anche dalle lettere, poi dai suoi scritti, e soprattutto dal modo con cui all'epoca, cosa che, almeno io, insomma, tutte le persone che hanno una certa età, rimpiangono della politica di allora. Cioè, la modalità con cui chi era un politico viveva l'impegno politico in quel tempo, che significa avere innanzitutto una grande capacità anche di studio, di analisi della società, anche di empatia con la società, non accarezzando e lisciando il pelo sugli istinti più bassi, come purtroppo oggi succede, ma anche raccontando alla società italiana che alcune situazioni difficili possono, diciamo, rendere necessarie anche soluzioni che in quel momento si ritengono, diciamo, dolorose. Occorre, c'era una classe politica che sapeva assumersi le responsabilità, non solo per l'oggi, ma anche per il domani. Ecco, è stato un modo, una stagione politica che io, a mio avviso, rimpiango, perché sicuramente non era superficiale, come purtroppo molto spesso accade oggi, e c'era un impegno che addirittura poteva essere, come in questo caso, come nel caso di Aldo Moro, un impegno pagato anche con la vita. È un grande sacrificio quello di Moro e ricordiamo tutti all'epoca il dibattito se cedere alle richieste delle Brigate Rosse o non cedere, insomma è stato un dibattito che ha spaccato, ha lacerato le coscienze. Io lo ricordo dall'epoca, avevo 14 anni, però ricordo, anche se da ragazzino, ricordo le discussioni in quel momento interminabili, in tutte le famiglie, si apriva un dibattito se o no si doveva accettare le richieste, diciamo, delle Brigate Rosse. Per questo io penso che sia importante, io penso che sia importante discuterne anche con le scuole, discuterne con i più giovani, che debbono sapere che c'è stata anche un'altra stagione di impegno politico, differente, e che i grandi ideali sono e dovrebbero essere ancora l'orizzonte della politica. Io termino qui e ringrazio l'onorevole Gero Grassi e lo ascolto volentieri nel suo racconto di Aldo Moro. Va bene, grazie. Allora, si è fatto riferimento a un discorso del 18 ottobre del 75 di Moro, qui a Brindisi, ed era rivolto proprio ai docenti e l'argomento, l'argomento di quel discorso era proprio sulla responsabilizzazione della scuola nell'educazione e nel far ritornare i ragazzi con il senso di essere uomini. In una parte del discorso, almeno l'inizio, l'incipit è questo. Signor Sindaco, signor Segretario Generale, autorità, cari colleghi parlamentari, vorrei dire che la mia presenza qui, questa sera, non ha niente di ufficiale, niente di convenzionale. È veramente la presenza di un amico che partecipa ad un momento importante nella vita di questa provincia, alla quale io mi sento profondamente legato. Vorrei dire che sono venuto intenzionalmente a Brindisi. Ho scelto di essere in questa città, seppure per brevissimo tempo, per indicare come io mi sento legato a tutta intera questa terra di Puglia. Anche se sono rappresentante politico di una parte di essa, mi sento veramente molto legato a tutta la Puglia. Quindi, desideravo da tempo di dare a Brindisi un segno di attenzione e attaccamento. In questo senso, io vorrei salutarla, signor Sindaco, ringraziarla per le calorose accoglienze e dirgli che saluto tutti i cittadini di Brindisi e della provincia di Brindisi, che questo sia di buon augurio per la città. In un secondo passo del discorso, Moro sostiene che la nostra società è disgregata, non riesce a indirizzarsi in modo efficace verso quegli obiettivi di progresso, giustizia e di libertà. Si può essere ottimisti e valorizzare questo grande fermento innovatore che anima la nostra età, vedere cioè non l'aspetto della distruzione, ma l'aspetto della costruzione e soprattutto l'aspetto della creatività di cui sono espressione i giovani, che a dispetto di tante cose che si dicono sono certamente estremamente creativi. E non dico che ci sono solo due scuole, quelle dei pessimisti e quelle degli ottimisti. Dico che ciascuno in questi momenti deve far parte e prendere la propria coscienza. Occorre l'uomo. Noi sentiamo che le istituzioni democratiche sono una cosa estremamente importante, ma le istituzioni democratiche hanno bisogno del sostegno dei cittadini, della consapevolezza dei cittadini, dell'ardore dei cittadini, del senso di misura e di responsabilità dei cittadini. Passo la parola all'Onorevole Gero Grassi. Grazie Sindaco, perché chi organizza una manifestazione sul caso Moro guarda al futuro e non al passato. Saluto Sua Eccellenza, con la quale ho avuto la possibilità e il piacere di scambiare alcune battute. ringrazio tutti voi per questa serata di passione, perché quello che sentirete stasera è la passione di Aldo Moro, la vita di Moro, che è terminata in quello che la commissione di inchiesta voluta da me e dal Parlamento italiano, all'unanimità, approvando la relazione, il 13 dicembre 2017, nell'ultima pagina, definisce Aldo Moro martire laico. Di che cosa? Della libertà e della democrazia. Perché nei 55 giorni Moro fu martirizzato. Ecco perché uno dei quattro progetti del Consiglio regionale, quello rivolto ai comuni, biblioteche e associazioni, si chiama Moro martire laico. Moro vive, è destinato alle scuole, Moro educatore ai docenti e Moro professore agli studenti universitari. Quindi chi affronta questo tema ha coraggio. Io sono cinque anni che ci lavoro, stasera sono per me 607 puntate in quattro anni, ma la 608 ce l'ho domani e la 606 l'ho fatta ieri sera in tutta Italia correndo rischi spaventosi perché guardate il caso Moro non è finito. Sciascia disse l'uomo giusto è morto al momento giusto. Poi aggiunse fino a che gli italiani non sapranno tutta la verità sul caso Moro ogni italiano sarà in pericolo. che cosa sentirete stasera? Una sintesi di 6 milioni di pagine che sono gli atti processuali del caso Moro tutti sul mio sito www.geroglassi.it dove accanto a tutte le lettere di Moro ci sono tutti gli atti processuali ci sono immagini filmati anche quelli più macabri di 50 anni di storia d'Italia gli atti processuali del caso Moro derivano da 8 processi 4 commissioni terrorismo e stragi 2 commissioni Moro una commissione P2 una commissione Mitrochin attenzione le commissioni hanno gli stessi poteri della magistratura quindi arrestano le persone per capirci e sono commissioni parlamentari stabilite dalla legge poiché la materia è esplosiva delicata ma anche abbastanza complessa quando qualcuno alza la mano io capisco che ho superato il limite di tolleranza umana senza che nessuno se ne dispiace perché io potrei parlare due giorni sul caso Moro tenete presente che io parlo a memoria e cito gli atti processuali dicevo a sua eccellenza prima il caso Moro che ci è stato raccontato è Parigi è la capitata Germania voi stasera sentirete perché Parigi è la capitata della Francia quindi il sindaco faceva riferimento alla trattativa non ci fu la trattativa ma noi non l'abbiamo saputo non ci fu nessuna trattativa perché Moro doveva morire stasera sentirete dei miti del nostro paese sgretolare sotto le mie accuse non personali io quello che dico è tutto scritto nella relazione del Parlamento approvata all'unanimità che diciamo il Parlamento che approva una cosa all'unanimità non è facile solo un deputato sardo si astenne il resto votarono tutti non credo per fare un piacere a me o per la mia bravura ma perché la Commissione ha fatto un lavoro serissimo con le prove quindi voi sentirete stasera dei personaggi ai quali noi abbiamo intestato strade piazze scuole che dovrebbero retrocedere non dico nel purgatorio ma almeno all'inferno per non dire sotto negli anni 30-40 quando in Italia c'è il fascismo in un carcere qui vicino Turi provincia di Bari ci sono due persone rinchiuse non per furto droga o omicidio ma perché la pensano diversamente da Benito Mussolini quelle due persone sono il socialista Sandro Pertini poi presidente della Repubblica e il comunista Antonio Gramsci fondatore del partito comunista Mussolini da Roma dice spegnete quei cervelli perché il fascismo fu oppressione non solo fisica in questi anni cioè gli anni 30-40 Moro si laurea all'università di Bari in un corso di giurisprudenza che dura 4 anni ma lui si laurea in 3 e su 21 esami acquisisce 13-30 lode il massimo e quando va male 8-30 cioè Leonardo da Vinci si troverebbe in difficoltà il 3 novembre del 41 il professore Aldo Moro 26 anni 25 anni entra all'università di Bari come docente e corre il rischio di essere arrestato alla prima lezione perché? perché entra in classe dopo aver detto buongiorno dice una cosa incompatibile con il fascismo la persona prima di tutto i fascisti vogliono arrestarlo per aver detto quella frase quella frase è l'input della vita e della morte di loro perché qualche giorno prima di essere ucciso non avendo visto uno dei suoi carcerieri dice agli altri di salutarlo nel 1946 quando si vota per la prima volta in Italia l'88% dei pugliesi non ha acqua potabile e servizi igienici a casa l'82% delle strade pugliesi non è decente è a polvere il 25% dei pugliesi non sa leggere e scrivere il 2% è laureato il 3% è diplomato il 70% ha la quinta elementare questo per fotografare il periodo perché se non fotografiamo il periodo non capiamo come nasce Aldomoro quello che fa Aldomoro che sarebbe difficile farlo oggi all'epoca era di fatto impossibile lui nel 46 si candida nel collegio Bari Foggia e parla sui palchi di diritto e morale stato etico unità e pluralità di reato io andavo ai comizi di Moro accompagnato da mio nonno che faceva un mestiere che non esiste più mio nonno incideva la pietra era scalpellino quando avevo 4-5 anni chiedevo a mio nonno ma scusa tu che cosa capivi ai comizi di Moro e mio nonno rispondeva nulla se andate a leggere le croniche della gazzetta del mezzogiorno la gazzetta dice folla applaudente ai comizi di Moro che va via contenta ma non capisce nulla però mio nonno aggiungeva una cosa dice io l'unica cosa che ho capito quando iniziava a venire a Terlizzi nel 46 è che mio figlio cioè il figlio di mio nonno che poi è mio padre non avrebbe fatto lo scalpellino e mio padre ha fatto il professore per mio nonno la consapevolezza che il figlio non avrebbe fatto lo scalpellino era il miraggio il futuro la speranza Moro nei comizi dava questo nel 1963 per un incidente storico nel comizio fatto a Terlizzi invece delle nove arriva a mezzanotte non può parlare in piazza parla su un tavolino improvvisato io avevo preteso da mio padre che mi portasse al comizio di Moro e mio padre mi portò ma io avevo cinque anni Moro parla su un tavolino di questa dimensione io sto qui dalle otto ad aspettare parla a mezzanotte mi addormento sui piedi di Moro il quale poverso non si può muovere sul pacco sta soltanto lui lui che fa si abbassa mi prende in braccio chiede a mio padre il nome e parla a me il 63 lui sarà presidente del consiglio qualche mese dopo parla a me parlando ai giovani di tutta Italia e dice che senza i giovani non c'è futuro non c'è paese non c'è speranza e che i giovani hanno le colpe degli anziani e i meriti propri e poi disegna la scuola che Moro vuole dicendo che per l'Italia quando si parla di scuola la spesa non è un costo ma è un investimento perché senza la scuola non c'è futuro non c'è paese in questa Italia Moro si confronta con un personaggio rude ma validissimo nel collegio Barifoggia che prendeva la coppola la gettava a terra e la calpestava si chiamava Giuseppe Di Vittorio segretario generale della CGL il quale parlava al cuore delle persone insegnava ai pugliesi a non togliersi la coppola quando passava il padrone condizione diciamo eccellente rispetto a certa politica di oggi arrivati alla costituente Moro fa un capolavoro l'ho detto dappertutto in Italia lo dico anche qui ho detto a Vespa quello di Porta a Porta a Berlino in un confronto sulla sanità che abbiamo avuto facciamo una trasmissione sulle novità del caso Moro lui mi ha risposto si sa tutto e dico sì perché non è elettora la relazione dopodiché è offensivo per gli italiani che Vespa intervisti a Porta a Porta il figlio di Totò Riina ma gli italiani continuano a cantare finché la barca va lascia andare io lo dico tutte le sere questo fatto anche perché io so chi è Rina stasera lo saprete pure voi perché nel caso Moro c'è un pezzo che passa da Rina arriva alla costituente Moro e fa un capolavoro perché noi abbiamo lo statuto Albertino che è in vigore per cento anni che si poggia su un assunto il re anche quello che sta qui nelle vostre bellissime immagini concede ai sudditi alcuni diritti poi arriva Ponsolini e toglie pure quelli Moro dice no Moro spiega e non so come abbia fatto io non so pur avendo letto tutti gli altri non so come abbia fatto a convincere il Parlamento che ci sposto ci sono dei diritti che non sono dati ma riconosciuti perché sono diritto naturale e Moro nel diritto naturale ci mette libertà personale libertà politica libertà religiosa diritto alla salute diritto allo studio diritto al lavoro diritto alla mobilità un capolavoro e Moro spiega alla costituente dice guardate non diritti del cittadino ma diritti della persona e fa un esempio brillantissimo se io spingo una donna incinta lungo le scale la donna rotola non si fa nulla ma il feto muore io non ho ucciso un cittadino perché il cittadino è quello che viene riconosciuto al comune nei momenti in cui si fa l'iscrizione ma ha ucciso una persona e il diritto penale italiano condanna chi uccide il feto perché è una persona è un capolavoro noi ce l'abbiamo questa norma nel diritto penale ma viene da là la sacralità della vita anche prima di essere nato e lui fa questo esempio per dire è lì che la persona acquisisce quei diritti che nessuno gli dà e quindi nessuno gli può togliere perché è diritto naturale un capolavoro in questa costituente Moro poggia la costituzione sulla persona guardate la nostra costituzione non è la migliore del mondo perché lo dice Benigni che pure ha ragione ma è la migliore del mondo perché è l'unica copiata dappertutto che ha la persona al centro se voi andate a leggere la persona non ha mai qualcosa da altri la persona ha tutto e sprigiona altri non è lo Stato che riconosce la persona è la persona che riconosce lo Stato ma nel 46 e da qualcosa del genere c'era Calamandrei che la pensava esattamente all'opposto tant'è che si arriva alla felice votazione quasi unanime perché a un certo punto quello che non spetta a me dire se è vero o no ma era chiamato il migliore Parmiro Togliatti segretario del partito comunista disse ai suoi perché l'opposizione alla persona prima dello Stato veniva dai socialcomunisti Togliatti disse il professorino ha ragione così come Togliatti disse il professorino ha ragione quando il professorino fece passare l'articolo 7 della Costituzione e quando il professorino volle che il concordato fosse inserito e Togliatti capì che non si poteva dopo la guerra il fascismo la resistenza fare un'altra guerra tra cattolici e non cattolici perché sarebbe stata la fine del paese tutte intuizioni di Moro Togliatti si disse il professorino ha ragione fu dura da masticare per alcuni ma aveva ragione aveva ragione il professorino aveva ragione Togliatti a dargli ragione mentre si fa la Costituente quindi giugno 46 elezioni 31 dicembre 47 il primo gennaio entra in funzione la Costituzione Moro fa un altro capolavoro costituisce una commissione informale di tutti i partiti con professori universitari che con lui avevano fatto la guerra e studia che cosa? la condizione della scuola italiana che nel 46 poggiava sulla legge del ministro Michele Coppino risalente al 1876 questa condizione gli dice che la Calabria la Sicilia la Basilicata la Sardegna c'è il 40% di gente che non sa leggere e scrivere è che a scuola vanno i figli dei ricchi perché la legge dice è obbligatorio fino a 11 anni ma siccome non c'è la pena vanno i figli dei ricchi Moro si ficca in testa di arrivare alla obbligatorietà della scuola media con la pena per i genitori che non mandano i figli a scuola ci arriverà nel 63 nel frattempo nel 53 nasce a Torino la RAI due ore bianco nero un televisore costa all'epoca nel 53 800 mila lire 800 mila lire trasformate sono 14 mila euro l'operaio guadagna 10 mila lire al mese quindi una cosa drammatica immaginate che nel 57 nella città di Brindisi stanno 131 persone che hanno la televisione 131 ovviamente nel 131 c'era probabilmente il comune la parrocchia il sindacato un albergo un bar 131 Torino nel 57 Moro chiama il direttore della RAI Arlata e gli dice dobbiamo portare la scuola a casa degli italiani e il ministero lui è il ministro della pubblica istruzione sponsorizza un programma vedete con i tecnici che cosa fare i tecnici e il direttore Arlata studiano un programma che si chiamava non è mai troppo tardi lo dico con tanto affetto ai giovani non esiste isola dei famosi o grande fratello che abbiano un boom come non è mai troppo tardi venduto dalla RAI in 200 stati la RAI ha incassato miliardi per quel programma ma dietro quel programma c'è una cosa di grande democrazia che nessuno conosce perché Moro la raccontava a noi ragazzi della provincia di Berna quando era tutto pronto va al ministero questo Arlata e gli dice signor ministro tutto è pronto abbiamo fatto un concorso il maestro è bravissimo il programma è pronto i tecnici del ministero sono stati bravi possiamo partire poi aggiunge il maestro ha un difetto Moro a quel punto va in crisi perché pensa a due difetti dal 57 uno era il reducismo bellico cioè i soldati tornati dalla guerra senza un braccio senza un occhio senza una gamba e l'altro era una cosa che il popolo italiano ha dimenticato nel 57 nelle nostre città c'era un mostro che mangiava piedi gambe mani e braccia quel mostro si chiamava talidomide era una medicina sbagliata che assunta dalla donna incinta caducava nello stomaco nella pancia gli arti inferiori e superiori in alcuni casi eh dottoressa Catiuscia purtroppo è così in alcuni casi colpì anche il padre e la madre e nell'ignoranza degli italiani nel 2017 la Camera ha chiuso il contenzioso economico con tutti i figli del talidomide che sono nati in condizioni pietose dopo 60 anni Moro pensa dice non possiamo mandare in televisione 57 uno senza gambe o senza braccia sarebbe stato uno scandalo e gli chiede qual è il difetto il direttore della RAI impazzisce diventa rosso inizia a balbettare e Moro faceva a noi l'imitazione di Arlata perché Moro era un grande imitatore voi immaginate che a noi faceva l'imitazione di Alighiero Noschese che imitava Moro nell'imitazione di questo Arlata Moro faceva l'imitazione diceva signor ministro maestro e dopo la E si fermava in realtà non era babbuzziente aveva paura di dire qual era il difetto perché non era un difetto fisico ad un certo punto come tutti i balbuzzienti prende la rincorsa batte il piede e dice signor ministro il maestro è comunista e Moro gli risponde io sono democristiano ma la tessera del maestro non mi interessa a me interessa che il maestro insegni agli italiani a leggere e scrivere risultato dell'operazione 3 milioni e mezzo di italiani che in oltre 15 anni di programma imparano a leggere e scrivere è la persona più anziana 88 anni una donna calabrese nel 1968 se voi andate sul mio sito video 05 c'è qualche puntata di non è mai troppo tardi come inizia non queste cose moderne la lavagna vecchio stile a e io perché allora lo dico a te che sei per fortuna tua giovane ed è la gioventù è l'unica cosa che io invidio allora il problema non era la differenza tra condizionale e congiuntivo che pure qualche ministro dovrebbe rivedere allora il problema erano le vocali e quando in un liceo di Gorizia mi è sfuggita un lapsus ho detto accanto alle cinque vocali c'era una consonante che era la mutina i ragazzi hanno detto che cos'è la mutina e hanno ragione la mutina era l'acca che veniva chiamata a noi mutina perché non dava suono che cosa succedeva quando scatta questo programma in Italia si verifica la mobilità di sedia che è un termine di moro che significa mobilità di sedia se a Brindisi stanno 131 televisori gli italiani del 57 a differenza di quelli di oggi che guardano indietro quelli del 57 guardavano avanti volevano recuperare il ritardo culturale sociale politico del fascismo quelli che non erano mai andati a scuola volevano imparare a leggere e allora che facevano alle 17.15 prendevano da casa la sedia e andavano nel luogo dove c'era la televisione che era la casa del ricco per capirci oppure luoghi di socializzazione sindacato parrocchia bar con la sedia e portavano un quaderno così che sembra quello delle partecipazioni funebri nero e non portavano le matite le penne multicolori ma il lapis la matita schiacciata del muratore se voi andate a vedere uno di questi programmi c'è il maestro Alberto Manzi che con alcuni alunni che sembrano avere 100 anni invece ce ne hanno 40 50 fa un'addizione e gli dice scrive la lavagna 2 ecco lo scrive 2 con molto tempo per scrivere 2 più più 2 2 poi come si diceva all'epoca pagato questo personaggio che sembra avere 300 anni che in realtà è un muratore che ce ne ha 50 per fare 2 più 2 fa questa operazione 1 così tutto in televisione si vede più 1 2 più 1 3 e più 1 4 io l'ho fatto in un tempo celere perché se no la dottoressa che ti usce mi mancia per il tempo ma quello ci sta 10 minuti per fare 2 più 2 4 non stiamo parlando dei fedalesimo e dei fedatari stiamo parlando del 57 questa è la condizione del nostro paese però quel programma è una bomba è una bomba perché 3 milioni e mezzo di italiani ovviamente vanno a prendersi la licenza elementare per Moro iniziano i guai lì inizia il caso Moro perché perché Moro viene accusato di sperpero di danaro pubblico perché se tu vuoi fare la scuola media obbligatoria devi costruire le scuole assumere i docenti i presidi i direttori il personale Moro mette in moto un sistema infernale perché ritiene che la scuola sia il volano dell'Italia del futuro e come dagli torto lo accusano di sperpero di danaro pubblico ecco perché risponde che nella scuola la spesa non è costo ma è investimento vi ho detto a Parigi capitale Germania bene la prima notizia del rapimento di Aldo Moro e dell'omicidio di Aldo Moro è del 1964 piano solo ideato dal generale dei Carabinieri Giovanni De Lorenzo ora a me ha fatto enormemente piacere che il comandante generale dei Carabinieri sia andato da Vespa 20 giorni fa e abbia chiesto scusa agli italiani per come i Carabinieri hanno ucciso hanno ucciso quel povero ragazzo di Cucchi la fotografia è spaventosa è da vergognarsi non esiste ragione in uno Stato democratico di gestire un ragazzo in quel mondo però non basta chiedere scusa per Cucchi perché i Carabinieri ne hanno combinati di tutti i colori e se i Carabinieri non chiedono scusa per tutto quello che hanno fatto siccome noi i Carabinieri li vogliamo bene e siamo attaccati a tutti i Carabinieri che sono stati uccisi o sono morti per difenderci ma se loro non iniziano a dire la verità confondono i bravi con i cattivi questo non vale solo per la classe politica vale per tutti vale per la Chiesa vale per i Carabinieri vale per la politica per la giustizia per l'industria per tutti e voi sentirete stasera che cosa hanno combinato i Carabinieri nel caso Mora io poi c'ho mezz'arma che mi ama e mezz'arma che se potesse ma io anche quando i generali stanno in prima fila come a Genova col procuratore della Repubblica quello del Ponte dico sempre le stesse cose che sono quelle scritte nella relazione e nel libro che cos'è il piano solo? un tentativo di dittatura militare per andare da Brindisi a Parigi nel 64 ci vogliono due giorni di treno e serve il passaporto non c'è l'Europa in Francia in Spagna comanda Franco dittatore in Spagna in Spagna Franco in Portogallo Salazar in Grecia stanno per arrivare i colonnelli la democrazia italiana è ancora debole abbiamo un Papa bravissimo che si chiama Giovanni XXIII Papa Roncalli che si erge sopra tutti i capi di governo tant'è che a lui fanno riferimento quelli che vogliono evitare che scoppi la Terza Guerra Mondiale un contadino sembrava quel Papa bene in quel contesto i carabinieri tentano il corpo di Stato e Moro Presidente del Consiglio dei Ministri ascolta il TG perché soltanto uno era del 14 luglio 64 che il Presidente della Repubblica Antonio Segni la mattina ha ricevuto al Quirinale il Generale Giovanni da Lorenzo per la formazione di un nuovo governo governo militare nel Paese Pietro Nenni socialista Vice Presidente del Consiglio parla di Tintinardisciabole guerra civile l'8 agosto 64 Moro con Giuseppe Saragat va Vice Presidente del Consiglio pure lui Ministro degli Esteri va al Quirinale va da Segni e gli racconta il fatto Segni fa finta di non capire ad un certo punto questa scena non la trovate da nessuna parte tranne un giornalista che la scrisse ma fu arrestato a un certo punto Saragat perde la pazienza non so quanto Barolo avesse bevuto prima si alza grida come un pazzo sappiamo tutto del 14 luglio ti denunciamo alla Corte Costituzionale ovviamente contro segni la sua sedia cade all'indietro e si getta contro segni mettendogli le mani al collo qui io che sono manzoniano dico la divina provvedenza chi non lo è potrà dire la tiuche di greca memoria il caso Saragat non lo tocca ma non lo strangola succede un miracolo il Padre Eterno manda su segni un ictus segni grida cade all'indietro e va in coma 8 agosto 64 ovviamente in tutto questo mi si perdoni il francesismo casino i due corazzieri che stanno dietro la porta del Presidente della Repubblica entrano e trovano un moro livido bianco morto di paura Saragat più rosso del solito e segni a terra in coma dal coma si riprende un mese dopo ma perde l'intelletto la parola l'uso delle gambe e delle braccia e si dimette da Presidente della Repubblica il 24 dicembre 64 eletto il socialdemocratico Saragat il primo gesto di Saragat è mandare l'esercito a circondare la RAI che è stata circondata dai carabinieri ovviamente gli italiani in tutto questo non sanno niente ma evitiamo una guerra civile attenzione che l'ultimo tentativo di guerra civile di dittatura militare in Italia è del 1977 voluto dai carabinieri e ce l'hanno detto peraltro due generali dei carabinieri bravi intelligenti uno di Gioia De Colle e l'altro di Taranto perché non è che lo dicono tutti sto fatto con le prove l'Italia cresce gli italiani hanno un miraggio nel 64 65 il frigorifero la lavatrice poi la 500 la 500 la famosa 500 in un'Italia dove c'è immigrazione eccetera l'Italia cresce ma il 3 agosto del 74 alle 19.58 Aldo Moro arriva alla stazione di Roma Termini deve salire su un treno che è il Roma Monaco purtroppo vedo delle teste che giustamente annuiscono devo dire che nella maggior parte dei casi nessuno ricorda che cos'è il treno del 3 agosto 74 quel treno deve partire alle 20.05 è il Roma Monaco più conosciuto come Italicus Moro alle 20.03 viene fatto scendere dal treno il treno tre ore dopo salta in aria nella galleria San Benedetto Valdisambro chi fa scendere Moro sono due funzionari del ministero degli esteri servizi segreti che gli dicono Presidente lei deve firmare dei documenti importanti Moro andava a raggiungere la famiglia in ferie non voglio scandalizzare nessuno né fare demagogia però questi sono i fatti la ricomposizione delle salme nell'Italicus come Piazza Fontana 12 dicembre 69 Piazza della Loggia Brescia maggio 74 strage della stazione di Bologna non avviene per corpo perché il DNA non c'è avviene per sesso mi spiego nella stessa bara i pezzi di una donna non della stessa donna o i pezzi di un uomo ovviamente consegnati alla famiglia sigillata in alcune bare la creatività italiana o la Pietas italiana ha fatto un'altra cosa da miracolo hanno messo i tuffi perché di alcune persone non si è trovato nemmeno un mignolo immaginate quelli che stavano seduti sulle bombe ma gli italiani queste cose non le conoscono come non conoscono che la magistratura dell'epoca brillantemente scrive la polvere pirica dell'italicus di piazza fontana brescia piazza la loggia strage la stazione di bologna non è a disposizione delle forze armate convenzionali italiane ma di un organismo sovranazionale non identificato oggi noi possiamo identificarlo in tre modi in inglese stay behind in italiano dietro le quinte in fiorentino gladio è la stessa cosa la magistratura dell'epoca individua ma non sa che cos'è siamo nel 74 a Washington nel 74 il 25 settembre un signore per il quale noi siamo a commissione di inchiesta abbiamo chiesto l'estradizione ma il governo statunitense non ce l'ha dato un signore che si chiama perché vive ancora Henry Kissinger dice a Moro presidente lei deve smettere di perseguire il suo piano politico per portare tutte le forze del suo paese a collaborare direttamente presidente lei o la smette o la pagherà cara molto cara questo è un avvertimento ufficiale Moro ha paura 1977 novembre a Roma viene gambizzato Publio Fiori deputato democristiano per i più giovani gambizzato significa sparata le gambe sui muri romani appare una scritta oggi Fiori puntini puntini domani Moro c'è un giornale che questa immagine la mette in prima pagina si chiama Repubblica nessuno muove un dito novembre 77 TG1 intervista di Moro i miei nemici sono gli Stati Uniti e gran parte della Germania i nemici di Enrico Berlinguer segretario del partito comunista sono i russi questa intervista viene trovata da una bravissima magistrato donna negli scantinati della RAI mai trasmessa la RAI è cattiva no nessun democristiano e nessun comunista nel 77 avrebbero creduto alle parole di Moro ma Moro sa delle cose che noi abbiamo saputo due anni fa quale? una per esempio che i russi nel settembre del 74 tentano di uccidere a Sofia Enrico Berlinguer e si salva per miracolo perché muore l'autista e l'interprete si salva per miracolo perché la macchina che doveva l'automobile che doveva cadere da un ponte viene fermata sul ciglio da un tronco e quando arrivano ambulanze medici infermieri il compagno Berlinguer dice no non venghi in ospedale perché Berlinguer sa che nei regimi comunisti l'ospedale è l'anticambo del cimitero e sapete chi fa chiamare per telefono per parlarci di lui direttamente certamente con tutto il rispetto né Laiotti né Chiaromonte né Napolitano mai avrebbe immaginato di chiamare D'Alema ma questa è una battutaccia pugliese chiama Aldo Moro e gli dice aiutami e Moro ministro degli esteri fa una cosa la persona prima di tutto lì non è il segretario del PC in difficoltà è il cittadino italiano Enrico Berlinguer e Moro gli manda l'aereo di Stato che all'andata va vuoto l'abbiamo visto nei diari di bordo dopo la desecretazione di Renzi all'andata è vuoto al ritorno è scritto persona non nominabile voi immaginate persona non nominabile Enrico Berlinguer ma all'epoca non si potevano dire queste cose ovviamente né Moro né Berlinguer vanno in televisione o fanno un twitter su questo fatto anche dopo che l'aereo è decollato non ne fanno twitter perché sarebbe stato uno scandalo mondiale che Moro aiutava Berlinguer e che Berlinguer chiedeva a Moro di essere aiutato e che i russi volevano uccidere Berlinguer cioè un altro mondo ma tutto questo l'abbiamo scoperto nella commissione di chiesta ma Moro lo sapeva nel novembre del 77 Moro passeggiando in Transatlantico con Vittorio Cervone che fu il proponente della prima commissione Moro e che poi testimoniò dice caro Vittorio ci faranno pagare caramente la nostra linea politica la DC perderà voti ma dobbiamo andare avanti ne guadagnerà la democrazia italiana dobbiamo spostare i comunisti da Mosca in Europa costruire con loro l'Europa dei popoli superare la gabbia di Yalta perché Moro a differenza nostra sa che negli accordi di Yalta c'è un passaggio segreto che prevede che gli inglesi abbiano sull'Italia e sul Mediterraneo il protettorato tant'è che dagli inglesi parte l'omicidio di Enrico Mattei che li ha sostituiti in Libia chiaro? non c'entra la mafia gli inglesi tra l'altro immaginate che negli atti desecretati del governo inglese abbiamo trovato che gli inglesi definiscono Moro malato di tumore nel 61 all'autopsia completamente sano e dicono che in Italia magari su questo avessero avuto ragione nel 61 c'erano due matti magari uno che si era messo in testa di rendere l'Italia autonoma dal punto di vista energetico Enrico Mattei e l'altro che si era messo in testa di superare Yalta senza il consenso di Stati Uniti e Russia Aldo Moro in questo gran manicomio il 17 gennaio del 78 a Villa Vanda Arezzo la casa di Licio Gelli capo della loggia massonica P2 si vedono sei generali carabinieri esercito finanza marina polizia tutte le armi chi comanda Gelli e Gelli che dice ai generali gli amici americani ci chiedono che i comunisti non vadano al governo perché sennò conosceranno i segreti della Nato ma fino a qua ci poteva stare ma dice un'altra cosa anche gli amici sovietici ci chiedono di non mandare i comunisti al governo perché sennò come fanno i sovietici a spiegare i cararmati di Budapest 56 Praga 68 Varsavia successivo comunione di amorosi sensi per la storia questi sei generali delle armi italiane sono nominati dal governo Andreotti successivo alle elezioni del 20 giugno 76 su proposta del ministro Francesco Cosiga d'intesa con l'onorevole Ugo Pecchioni responsabile stato del partito comunista italiano nel caso Moro Cosiga e Pecchioli sono la prima coppia di fatto della politica italiana 18 gennaio 78 da Beirut parte un telegramma il telegramma dice a giorni in Italia scoppia un atto terroristico devastante chi lo manda fonte 2000 e chi è 38 anni per capirlo ma chi lo sapete aveva non ce l'ha detto fonte 2000 è un colonnello dei grabinieri Stefano Giovannone che è il nostro capo dei servizi segreti a Beirut il quale dice la verità i nostri servizi segreti prendono questo telegramma ci scrivono sotto lo mettono in un cassetto e noi l'abbiamo trovato dopo 40 anni 14 marzo 78 no guardi non la sento non la sento ed è difficile che possa rispondere dopo quando no guardi se lei non la sento dopo prima di andarmene mi fermo e le do tutte le spiegazioni che vuole anche perché vado a memoria 14 marzo 78 Università di Roma Moro fa l'ultima lezione viene accompagnato da sette alunni che si devono laureare il 16 marzo alle ore 16 e da un professore suo assistente di Gravina di Puglia Francesco Tritto il quale nel congedarsi c'è Leonardo di Moro dice a Moro presidente si ricorda che dopo domani quindi il 16 marzo alle 16 c'è la sua ultima seduta di laurea Moro sente ultima seduta dice ma scusi professore io non ho mai saltato una lezione nemmeno da ministro degli esteri perché dice l'ultima seduta e Tritto dice no presidente dico l'ultima seduta perché i giornali oggi l'ha detto anche la RAI lei a breve sarà eletto presidente della Repubblica Moro risponde professore lei è generoso e affettuoso tutto testimoniato dai ragazzi presenti che non si laureano il 16 marzo e che aspettano la morte di Moro perché sperano che Moro ritorni quindi spendono due mesi della loro vita ad aspettare che Moro ritorni per laurearsi che dicono i ragazzi al processo Moro dà questa risposta professore lei è affettuoso e generoso ma è ingenuo io non diventerò mai presidente della Repubblica mi faranno fare la fine di John Kennedy ucciso a Dallas il 22 novembre 1963 mi citiale il giorno dopo che il 15 marzo un giornale romano diretto da un uomo della P2 Mino Pecorelli bravissimo giornalista spara in prima pagina chi sarà il novello brutto che alle idi di marzo ucciderà Cesare futuro presidente della Repubblica Pecorelli era persona informatissima il 17 marzo Pecorelli scrive in prima pagina suo P è Gialta che ha deciso Viafani il 16 marzo 78 alle ore 8 e un quarto da via del Forte Trionfale 79 a Roma Moro parte con tre poliziotti tra cui il fasanese Francesco Zizzi e due grabinieri per la storia Zizzi non fa parte della scorta di Moro e sostituisce un signore che si chiama Rocco di nome gentiluomo di cognome ma non lo è affatto nato a San Vito di Platì capitale mondiale dell'Andrangheta Reggio Calabria il quale dichiara al suo amico poliziotto Adelmo Sabba che viene in commissione e ce lo riferisce mi hanno messo in ferie perché mi hanno voluto salvare e Zizzi sostituisce questa persona chi volesse vedere un cortometraggio bellissimo su Zizzi nei video 5 del sito mio si chiama Valeria è la cena della sera precedente al 16 marzo a Roma in una trattoria a Latina città di Valeria in una trattoria Zizzi dice a Valeria questa settimana è Pasqua da noi si usa che le famiglie stanno insieme a Pasqua io vado a casa tu vieni insieme così conosci i nostri genitori le mie sorelle e poi decidiamo di sposarci nel frattempo della cena stilano l'elenco degli invitati e il menu Valeria non si è più sposata tutto drammatico Zizzi non c'entrava assolutamente nulla con la scorta di Moro e vi dirò anche perché parte quest'auto e va in chiesa la chiesa di San Francesco a Roma i tre poliziotti restano fuori i due carabinieri entrano in chiesa dopodiché devono andare alla camera vengono rapiti in via Fani per capirci partono dal comune di Brindisi vanno a Francavilla Fontana devono andare a Doria vengono rapiti a Bari secondo voi uno da Francavilla a Doria va da Bari TSO obbligatorio ricopro immediato che cosa voglio dire che via Fani è distonica rispetto al percorso chiesa camera dove sta la spiegazione quando la commissione interroga il dottor Guido Zecca capo ufficio scorte ministero degli interni dell'epoca come avviene la scorta nel 78 noi dal ministero chiamiamo la macchina della polizia e via telefono prendiamo lo scortato da casa e lo portiamo a destinazione sempre via telefono e tutto questo da dove risulta nella macchina polizia c'è un rullino dove viene registrato il numero chiamante dateci il rullino e capiamo chi ha chiamato per mandare volo in via Fani risposta abbiamo smarrito il rullino io che non parlo politichese hanno distrutto il rullino e la spiegazione sta che quando il 29 maggio del 79 a Roma nella casa del capo del KGB italiano servizio segreto sovietico professor universitario Giorgio Confos vengono arrestati i due fidanzati delle Brigate Rosse cioè Valerio Morucci e Adriana Faranda nella tasca di Morucci si trova un biglietto con un nome Antonio Esposito sotto ufficiale dei servizi segreti in servizio la mattina del 16 marzo all'ufficio radioscorte del ministro degli interni uomo della P2 per completare l'arresto di due brigatisti nella casa del capo del KGB che noi scopriamo essere anche agente CIA e agente SISMI cioè servizio segreto militare italiano si trovano due cose delicatissime carta intestata dello IOR del Vescovo Marcinkus con indirizzo privato via da Nocetta 4 Roma carta intestata dell'istituto Prodeo il cui capo è un presbitero americano padre Morleon noi che cosa scopriamo? Che padre Morleon è iscritto alla P2 ed è il capo degli agenti della CIA in Italia che il Vescovo Marcinkus è iscritto alla P2 ed è un agente della CIA dicevo a sua eccellenza non c'è da scandalizzarsi oggi perché bisogna andare con la mente al 78 Russia e Stati Uniti si combattevano nel mondo e quindi tutto era buono per arrivare all'obiettivo il capo della CIA in Italia chi avrebbe potuto sospettare che era un presbitero americano nessuno per questo lo faceva in questa casa è la casa dove viene trovata la Scorpion cioè l'arma che uccide Moro ma né conforto padre né conforto figlia che abita pure là vengono condannati e mandati in galera secondo voi è normale si trova due brigatisti l'arma che uccise Moro e i proprietari che li ospitano non vanno in galera e la Digos dell'epoca passa come trionfalistica perché grande colpo antiterrorismo ma quale antiterrorismo sono venuti gli uomini della banda Maiana che vendevano alle Brigate Rosse le auto e davano i certificati falsi dei boli di assicurazioni e ci hanno detto che li hanno portati loro là e che ad un certo punto Moruccio e Faranda per paura che Mario Moretti uno delle BR che non la vedeva come loro li uccidesse si sono consegnati alla Digos quindi nessun colpo di antiterrorismo c'è stata una consegna di Moruccio e Faranda ovviamente le cose che vi dico sono tutte documentate torniamo alla chiesa le due auto di Moro partono arrivano in via Fani in via Fani lì in fondo normalmente da vent'anni vende i fiori Antonio Spiriticchio che è un fioraio non c'è al suo posto c'è un Austin Morris targata Roma T53056 che impedisce al carabiniere Ricci della macchina di Moro di liberarsi questa macchina è di una società la Gudrev società di copertura dei servizi segreti italiani l'atto di costituzione della società viene fatto dal notario squillacce del ministero degli interni lì c'è un bar il bar Olivetti agli atti giudiziari il bar è chiuso il giornale è chiuso io oggi non so se si dice così c'è un frammento di televisione immediatamente dopo il rapimento che è un signore alza la sarginesca senza chiavi quindi era aperto ma come sono arrivato io al bar Olivetti e come ho portato la commissione al bar Olivetti che mi chiama un tizio che non conosco e mi dice se vuoi sapere qualcosa su Casomoro vediamoci dico va bene vediamoci ci mancherà bene vieni alla camera dice no deve venire lei da solo stasera sul litorale di Ostia dove uccisono Pasolini non è il massimo dell'invito ma siccome a me il Casomoro è come Dracula all'Avis io ci vado e trovo un signore con due stampelle e una benda in testa che mi dice ma lei ha paura e io dico no ma sa perché per chi non avevo paura ero morto di paura quindi a quello io dice la verità tutto buio a mezzanotte dice no io l'ho fatta venire qui perché se no il primo colpo è per lei il secondo è per me dico interessante andiamo avanti posso fare una domanda ma lei perché c'ha la benda c'ha una benda qua dice no guarda l'ho fatto per lei dico lei fa tutte queste cose per me ma se non ci conosciamo non mi dice chi è dice no no stia calmo io non c'ho il cranio come non c'ho il cranio dice sì c'ho un tumore al cervello e c'ho una velina in testa per cui si vede tutto quando gli ho fatto gli auguri perché poi siamo diventati amici il giornalista della RAI Diego Cimara il 24 dicembre gli faccio gli auguri dice in dialetto romanesco dice oh per colpa tua la mia moglie ha trovato 18 pidocchi a casa e gli dico vedi Diego non ti preoccupare salutami la moglie del maresciallo che sta sentendo che cosa ci ha detto Cimara io la mattina del 16 marzo ho fatto colazione nel bar Olivetti e io ho chiamato Angela Buttiglione del Tg1 e Paolo Fraiese del Tg1 che è quello che poi fa le prime immagini se questo ha fatto colazione allora il bar è aperto e il bar è aperto lo dice anche in commissione un magistrato il quale magistrato dice anche qualcosa di più i carabinieri colonnello Antonio Cornacchia di Foggia mi hanno scritto che i proprietari del bar Olivetti per i quali io ho chiesto l'arresto erano irreperibili quando è venuto in commissione il colonnello oggi generale di Foggia in pensione io gli ho messo fuori un biglietto falso come questo un biglietto da visita gli ho detto scusi generale 878 che cos'è dice che ne so io dico io il numero di tessera P2 suo dice ma io non sono mai stato iscritto da P2 lì io feci un errore micidiale perché rispose sì anche quello del Colosseo non sapeva di abitare là tant'è che il presidente mi riprese giustamente dopodiché gli metto fuori la conclusione della commissione P2 il generale Antonio Michele Cornacchia è iscritto alla P2 attenzione i tre proprietari del bar Olivetti due erano implicati anche nella strage di Bologna e la terza persona è la figlia dell'ex presidente della Repubblica Giovanni Gronchi che fa un'associazione commerciale con due criminali delinquenti una cosa spaventosa mettiamo in moto le indagini chi va nel bar Olivetti Tano Badalamenti che uccide Perpino Impastato 9 maggio 78 Radio Out Cinisi Palermo Frank Coppola mafia sicula americana un signore che negli anni 70 a Washington va a fare una rapina a una banca ruba 10 miliardi la banca ha una cassaforte grande lui si mette i soldi fuori dalla cassaforte a un certo punto mentre sta andando la porta si chiude e si trova due dita nella porta ovviamente non può più andarsene il dolore immenso che fa prende il cortello si taglia le due dita prende i soldi e se ne va Camillo Guglielmi colonnello vice comandante generale di Gladio Massimo Carminati Roma mafia capitale Renatino De Pedis Renatino De Pedis anche qui come per i carabinieri io chiedo scusa a tutti gli uomini di chiesa di buona volontà Renatino De Pedis è il capo dell'abbandono Mariana ed è uno che a 32 anni viene ucciso ed è imputato imputato di 62 emicidi poi si scopre che Renatino De Pedis grazie al cardinal Poletti alla quale la moglie si è rivolto la moglie è andata a Poletti e ha detto cardinal mio marito faceva tanta beneficenza voleva essere seppellito nella basilica pontificia di Santa Polinare e Poletti va bene l'ha fatto seppellire da là mentre noi eravamo passati da finché la barca va lasciandare a Tipi 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 dove sei che sembra la canzone di Orietta Berti è arrivato un sacerdote che non parla bene l'italiano e ha detto al morto via da qua questo sacerdote è Papa Bergoglio nessun italiano l'ha fatto no no batta pure le mani batta pure le mani non a me a Bergoglio nessun italiano l'ha fatto ora per capirci nella speranza che voi non facciate nomi cognomi in mia presenza io do una cosa al sindaco e il sindaco do una cosa a me se io al sindaco gli regalo la relazione della commissione Mono non è un reato ma se io faccio altro e il sindaco fa altro è un reato capiamoci Poletti non è impazzito Poletti ha riconosciuto il diritto alla sepoltura di De Pedis nella basilica pontificia perché De Pedis ha fatto qualche altra cosa probabilmente non a Poletti la pista ve la do ma non fate cognomi la pista è Emanuela punto le ossa dell'annunziatura non c'entrano nulla con Emanuela perché Emanuela sta in un pilastro già da 15 anni il bar Olivetti è l'epicentro del rapimento Moro il rapimento Moro dura 2 minuti e 56 la sparatoria a 56 secondi vengono sparati 96 colpi io ho provato in un deposito di polizia ad un certo punto in quei 56 secondi iniziavo a toccarmi perché me risentivo i colpi erano falsi erano assalve sentivo soltanto il rumore voi immaginate quei poveri cristi che stavano là una tragedia i due carabinieri sono stati colpiti alla nuca da 10 centimetri l'unico che è sopravvissuto per due ore è Zizzi di Fasano quando io chiedo ad Alberto Franceschini capo delle Brigate Rosse perché il colpo di Grazia perché gli hanno fatto pure il colpo di Grazia dopo averli crivellati di colpi nessuno doveva poter sopravvivere a Via Fani perché se no avrebbero detto chi stava io che all'epoca ero ancora ingenuo scusa e chi stava le Brigate Rosse non solo procuratore capo della Repubblica di Roma Luigi Ciampoli in Via Fani con le Brigate Rosse c'erano i servizi segreti italiani e stranieri e la mafia della banda della Magliana io scrivo un articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno il titolo in Via Fani c'erano anche le Brigate Rosse mi vogliono fare a pezzi innanzitutto i brigatisti che mi insultano in tutti i modi perché? perché se tu scopri che in Via Fani ci sono anche le Brigate Rosse non è che le Brigate Rosse le santifichi è peggio perché significa che loro sono parte strumento di un disegno molto più largo e noi oggi abbiamo la certezza che non c'erano solo le Brigate Rosse in Via Fani ma secondo voi una tragedia come quella di Via Fani c'è una ragazza che studia lingue che sta a pulire il bagno nel primo piano rialzato è una ragazza alla pari lavora in una famiglia e va all'università verso la casa cinesca ci sono anche dei colpi d'arma da fuoco nessuno l'ha mai interrogata dopo 40 anni e questa che dice dice ho visto un signore con gli occhi celesti che parlava in inglese e gridava actung actung e il tedesco actung actung e il giornalista del bar dice io per chiamare fra iesi ho dovuto attendere che persone vestite da vieri finissero una telefonata nella quale parlavano un inglese tedeschi schizzato questa è viafani una crudeltà unica a Zizi perché non viene fatta diciamo l'estrema grazia con l'ultimo coppo perché Zizi non conosce nessuno è la prima volta che viaggia con Moro e quindi muore in ospedale prima di fare tutto questo le due auto di Moro hanno rallentato perché una ragazza ha attraversato la strada Rita Algranati chi è la moglie di Alessio Casimirri chi è il figlio del capo ufficio stampa di Paolo VI Giovanni XXIII e Pio XII i papi non c'erano nulla sono cittadini vaticani la madre e i pad di Casimirri Casimirri viene arrestato perché un ottimo funzionario del Vaticano voi conoscete benissimo il figlio il dottor Cherubini capo della gendarmeria lo riconosce quando è ricercato e lo va a denunciare i carabinieri lo prendono gli fanno la foto semialetica il cartellino e invece di portarlo in carcere lo portano all'aeroporto e va prima a Parigi poi a Mosca e poi in Nicaragua questo signore che l'ha individuato è il padre di Giovanotti che scrive una canzone anche lui cittadino vaticano che scrive una canzone io il brigatista all'epoca e quando noi vergognandoci come italiani chiediamo al governo di Managua Nicaragua di estradare Casimirri in Nicaragua ci fa una pernacchia alla totò perché dice questo è cittadino nicaragüense e nessun governo italiano dall'81 al 2014 ha mai chiesto l'estradizione di Casimirri cioè da Cossiga Forlani Craxi Demita Amato Prodi Berlusconi fino a Letta nessuno compreso Ciampi nessuno ha mai chiesto l'estradizione di Casimirri il governo che l'ha chiesta su richiesta la commissione e il governo Renzi con il ministro Gentiloni ma non ce l'hanno dato perché non è più italiano mai stato in carcere noi abbiamo il tesserino di arresto con la foto mai stato in carcere i carabinieri l'hanno arrestato però tutto questo gli italiani non lo sanno vivono tranquilli il 16 marzo del 78 il presidente del consiglio dei ministri dichiara Giulio Andreotti a Tg1 il governo ha deciso di non trattare non c'è un italiano che capisca che Andreotti dice una bugia tranne Shasha noi che cosa scopriamo che il governo non ha deciso di non trattare e che agli atti del governo italiano i 55 giorni del Casomoro sono 34 righe di discussione il governo italiano non ha mai deciso di non trattare Giulio Andreotti il governo ha deciso di non trattare il 16 marzo del 78 l'onorevole Ugo Pecchioli del PC va a trovare Francesco Cossiga ministro degli interni e gli dice per noi Aldo Moro è morto in via Fani il 16 marzo del 78 attenzione queste cose sono registrate perché Cossiga le riferisce a Spadolini e Spadolini registra tutto le riferisce nel 90 ma Spadolini registra tutto quindi Pecchioli e Cossiga il 16 marzo hanno già deciso di non trattare e quando un giornalista imprudente tre mesi prima della morte di Cossiga va da Cossiga insieme con la televisione di Dublino il giornalista è di Radio Radicale quello per la radio quello per la televisione gli fanno una domanda dice Presidente quando muore chi vorrà incontrare nell'aldilà è così che risponde ovviamente tutto registrato è acquisito agli atti del processo il mio migliore amico Aldo Moro per chiedergli scusa perché lo abbiamo ucciso da innocente registrato in video perché quando io e Pecchioli abbiamo deciso di non trattare sapevamo che l'avrebbero ucciso il giornalista dice scusi Presidente ma lei perché dice questo Andreotti ha dieci anni più di lei non pensa a morire risposta io per la morte di Moro mi sono ammalato la malattia della pelle Andreotti camperà duecento anni ha fatto il patto col diavolo tutto gli scende addosso Dottoressa Gatiuscia dammi i segnali di fumo quando vado perché poi vi devo raccontare la morte Commissione che cerca Moro 40 persone Ministero degli Interni Preseduto da Gossiga tutti e 40 P2 dice Tino Anselmi non potete capire Moro e la storia d'Italia se non capite che cos'è la P2 durante i 55 giorni del caso Moro 4 generali dei carabinieri da Milano Genova Torino e Roma con 4 gazelle e 4 autisti carabinieri vanno a Villa Vanda Tino Anselmi dice ma scusi con tutto il dramma italiano del rapimento Moro voi andate a trovare Gelli perché perché dovevamo comprare gli abiti della Lebole con lo sconto Gelli era il capo della industria tessile Lebole vengono arrestati in commissione da Tina Anselmi primo ministro donna della Repubblica italiana voluta da Aldo Moro una donna è bene ricordarlo che quando va al liceo di Castelfranco Veneto una mattina sta in classe arrivano i nazifascisti siamo dopo l'8 settembre individuano 10 ragazzi dicono ai docenti e agli altri di seguirli tutti in piazza ovviamente non con la banda con le armi arrivano in piazza e questi 10 ragazzi ultimo anno del liceo vengono impiccati per rappresaglia contro i partigiani a quel punto Tina Anselmi diventa latina va a fare la stazzetta partigiana ma questa storia d'Italia chi la racconta? chi la racconta? non lo so andiamo avanti la P2 è centrale la P2 è centrale non c'è una riunione tra CIA che Ghebbe Mossad P2 no c'è una convergenza di interesse dice Steve Pikzienic consulente CIA di Cossiga al ministero nei 55 giorni siamo stati noi dal ministero a far sì che Aldo Moro fosse ucciso dovevamo avere un martire ma dovevamo salvare lo Stato e il giornalista Minoli quindi tutto registrato in video prove acquisite gli chiede scusi ma lei questa cosa l'ha detta a Cossiga dice io ho concordata con Cossiga e Andreotti con Andreotti ne parlava Cossiga strabiliante i 55 giorni ci vogliono mesi per raccontarli ve ne dico una sola il 18 marzo 78 la polizia va in via Gradoli bussa non entra perché nessuno apre via Gradoli nella strada di Roma fa la perquisizione a tutto il palazzo e fa il verbale il verbale dice polizia di Stato la data 18 marzo 78 vi faccio un esempio è come se voi trovando un documento del sindaco Rossi del 2018 invece di trovare una delibera a sua firma 2018 la trovaste del 1998 che vuol dire che il termine polizia di Stato è successivo alla riforma del 1981 nel 78 si chiamava servizio di pubblica sicurezza quindi quel verbale di perlustrazione del 18 marzo 78 è stato fatto dopo il 1981 viva l'Italia 9 maggio 78 Aldo Moro viene trovato morto in un arreno questa Renault è di un contadino muratore marchigiano il quale era stato arrestato il 9 maggio perché lui è il proprietario da Renault però la Digos ha perso la denunzia di furto di Filippo Bartoli che ha detto tre mesi prima la macchina me l'hanno rubata 5 anni fa prima di morire pochi giorni prima di Natale Filippo Bartoli che non mi conosce mi chiama e mi fa andare il 21-22 dicembre vicino a Ancona che cosa mi dice? dice guarda io le voglio dire una cosa ce l'ho detta anche a mio figlio mi hanno offerto stavo morendo mi hanno offerto 300 mila euro perché vogliono comprare la Renault io che sono un contadino povero non voglio diventare ricco vendendo il luogo nel quale è stato trovato il cadavere di Aldo Moro la Renault la regalo alla polizia di Stato per il museo nonostante mi abbiano arrestato che cos'è quella Renault? la pietà di Michelangelo dove Cristo morto è Aldo Moro e la Renault è la pietà però attenzione nella Renault c'è un cadavere di Aldo Moro ma lì c'è il cadavere della democrazia italiana della libertà italiana ecco perché Moro è martire laico perché se Andreotti nei 55 giorni dice le lettere di Moro sono moralmente irricevibili e Moro gli risponde da carcere presidente Andreotti lei passerà alla triste cronaca che le si addice la storia è un'altra cosa lei è un uomo cinico senza mai un momento di umana pietà sapete che cosa dice il cardinal Siri di Genova non a me al GR2 il 9 maggio 78 tutto registrato eccellenza hanno trovato Moro morto Giulio Anselmi l'intervista risposta ha avuto quello che si merita al GR2 è venuto a trovarmi anni fa voleva spiegarmi il rapporto cattolici socialisti io purtroppo avevo le mani benedette non l'ho presi a schiaffi però poi quando se ne andò sempre Siri parla mi ricordai che i piedi non erano benedetti lo avrei dovuto prendere a pedate nel sedere GR2 9 maggio 78 il cardinal Siri però poi ci sono anche tanti sacerdoti anche vescovi che si battono per la trattativa come si batte il papa per la trattativa e oggi abbiamo le prove che Paolo VI nonostante il criminale Marcinkus che non gli dà i soldi raccolga 10 miliardi visti da due testimoni a Castel Gandolfo attraverso gli ebrei che ha salvato a Milano durante la seconda guerra mondiale e le banconote sono di una banca di Tel Aviv sappiamo anche questo ed erano contenute in una valigia attorno con la ciniglia cioè siamo ai particolari come sappiamo che la discussione senza condizioni la lettera chi l'ha messo chi non l'ha messo tutte chiacchia c'è una lettera di Andreotti a Paolo VI santità il governo italiano la ringrazia per quello che ha fatto per Aldo Moro Moro è ancora in vita lei però si occupi dello spirito perché del corpo ci preoccupiamo noi e noi abbiamo deciso di non trattare Paolo VI santo ma Andreotti all'inferno perché non è debole il Papa è il governo italiano che comanda che lo blocca e quel Papa il 13 maggio fa una cosa che nessun Papa ha fatto insulto al Padre Eterno perché se voi andate a leggere quello che dice Paolo VI dice padre tu a me non mi hai ascoltato noi ti avevamo chiesto questo, questo questo e questo per Moro e dove si è visto che il Papa dice al Padre Eterno tu non ci hai ascoltato non esiste è la prima volta quel Papa muore di crepacuore per non aver salvato un amico, mite, buono generoso Aldo Moro quel Papa è Giovanni XXIII in un tempo diverso sono il Vaticano che hanno detto a Moro vai sull'apertura ai socialisti e sulla volontà di Moro non di realizzare il compromesso storico ma di spostare i comunisti dal blocco sovietico al blocco europeo perché in Italia si realizzasse la democrazia compiuta Roncalli e Paolo VI sono la sponda di Moro oltre Tebere e sono in un mondo grandissimo qual è la Chiesa dove ci sta Siri ma sta pure Montini ovviamente sono in quel mondo una cosa senza la quale Moro certi passaggi non li avrebbe fatti perché quando fa il centro-sinistra con i socialisti Moro fa il giro di tutti i vescovi d'Italia a spiegare che cosa sta a fare e viene insultato da De Mita che non lo vota e Moro dice io devo spiegare ai vescovi che cosa stiamo a fare non solo perché ci danno i voti perché non tutti i vescovi poi davano i voti ma soprattutto perché i vescovi sono un passaggio tra lo Stato e i cittadini e se io ai vescovi spiego quello che stiamo a fare loro lo spiegheranno ai cittadini e che cosa stavano a fare un mondo migliore un mondo più giusto un mondo più aperto un mondo dove nessuno si sentisse fuori escluso e quindi i religiosi illuminati non potevano che esserne accorti e Paolo VI muore per Moro è una delle tante vittime innocenti del caso Moro il 10 maggio del 78 Cossiga dice chi ha interrogato Moro è un professore universitario di alta cultura non c'è un magistrato in Italia che gli chieda scusi ministro ma chi è questo professore universitario come fa lei a saperlo ha ragione Cossiga perché chi ha preparato le domande a Moro dice Valerio Morucci durante l'interrogatorio è il professore irregolare di Firenze e chi è il professore irregolare di Firenze Giovanni Senzani Giovanni Senzani è un professore universitario che lavora al Ministero di Grazie e Giustizia all'epoca nella stessa stanza dei giudici Minervini e Tartaglione che lui fa uccidere dalle Brigate Rosse quando è iniziato questo tour del dolore Giovanni Senzani mi ha fatto scrivere una lettera ad un avvocato alla seconda puntata lei non è tenuto a parlare di Giovanni Senzani a me lui sa io l'ho anche denunciato lui sa che mi può fermare soltanto in un modo mi hanno dato pure i bravi e non perché io celebrassi i matrimoni qual è il problema? Giovanni Senzani è stato accusato e condannato a 13 anni ma è riuscito a dimostrare con la complicità della magistratura fiorentina noi abbiamo trovato documenti di reato degli anni 80 mai mandati in giudizio ma lui è riuscito a dimostrare che è entrato nelle Brigate Rosse nel settembre del 78 io sono riuscito a dimostrare che la notte tra il 17 e il 18 luglio del 77 a casa sua a Firenze di fronte al carcere di Solliciano lui ha ospitato a casa sua per due giorni due pluriomicidi pluri ricercati brigatisti che poi stanno in via a fare come fai tu a dire che non sai che cosa sono le Brigate Rosse per capire a che punto siamo arrivati Senzani sapete chi è è quello che fa il rapimento di Ciro Cirillo assessore regionale della DC e Raffaele Cutolo ci dice che Senzani si è preso all'età del bottino metà la camorra e metà Senzani un miliardo e mezzo c'è al punto Senzani è quello che fa il rapimento del fratello del primo pentito delle Brigate Rosse Patrizio Peci sentite come lo uccide una vergogna lo detiene per 55 giorni come Moro perché vuole timbrare l'omicidio Moro lo uccide con 11 colpi di pistola e con la Scorpion come Moro lo detiene nella casa di Natalia Ligas brigatista romana che quando viene ferita in uno scontro a fuoco viene portata in una clinica di Lauria il cui primario e proprietario e chi la opera è l'allore sanatore socialista Pittella Peci viene ucciso in questo modo un ragazzo di 25 anni muratore viene fatto in ginocchiare gli apre la bocca senza anni con un primario di psichiatria di Senigallia gli mette la Scorpion in bocca e gli spara 11 colpi mentre fa questo filma l'esplosione della testa quando muore Peci la moglie sta incinta partorisce dopo 4 mesi ha una bambina e la chiama Roberta come il padre quando la bambina arriva a 18 anni invece di andare alla discoteca come è giusto a quell'età va al procuratore della Repubblica e chiede di vedere il filmato della morte del padre che abbiamo visto anche noi il ragazzo tremante con la pistola in bocca dice pietà io non c'entro nulla con le brigate rosse fatemi tornare a casa ho mia moglie in C detto in C partono gli 11 colpi e sulla telecamera degli anni 80 quella immensa pezzi di cervello di lingua di sangue eccetera eccetera Roberta Peci dichiara io ho potuto ascoltare la voce di mio padre perché chi l'ha ucciso ha filmato l'omicidio ma da quelle poche parole ho capito il grande amore che aveva per me un dramma del quale Gabbanelli Lern Santoro Vespa Gilletti non parlano perché questa è materia esplosiva e chi è Senzani? quando noi andiamo a Genova a interrogare un ottimo generale dei Carabinieri generale Bosso io gli faccio una domanda impertinente scusi mi vuoi spiegare il rapporto tra professor Senzani e il generale Delfino e il generale dice ma lei perché vuole sapere queste cose dico scusi generale quale domanda le faccio io l'interrogatore sto facendo io lei questa volta non sta da questa parte sta da quella parte però lui è una persona per bene dice però a me nessuno mi ha chiesto questa cosa dall'amicizia tra Senzani e Delfino lei come fa a saperla dico scusi generale lei come fa a sapere tante cose in base alle quali poi ha fatto arresti eccetera eccetera dice avevo gli informatori e io c'ho i miei chi è Delfino? Delfino è un generale dei grabinieri nato a Platini capitale mondiale dell'Andrangheta che diventa famoso negli anni 80 perché riesce a liberare i rapiti dell'Andrangheta calabrese dal nord est d'Italia dopo che la famiglia ha pagato riscatto di miliardi e il rapito è stato lasciato con un collare legato al collo una catena se non arrivi dopo 5 giorni muore Delfino ovviamente va a Maurizio Costanzo Show tutte le televisioni fino a che a Brescia viene rapito l'ingegnere Giuseppe Soffiantini che è un amico di famiglia va lì e lui sta in difficoltà è stato rapito l'amico suo la polizia va alla casa fa una perquisizione e in uno scatolo di scarpe trova 3 miliardi un milione e mezzo di euro la moglie dice frutto dell'onesto lavoro di mio marito 3 miliardi tutti da 500 mila lire lui non sa e la moglie nemmeno che su quelle banconote la Digos ha messo una polverina si usava all'epoca il microscopio all'occhio non lo vedeva tutto denaro proveniente dai sequesti dell'andrangheta calabrese il generale Delfino è organico all'andrangheta calabrese e viene arrestato come facciamo a trovare Moro se Delfino e Senzani sono amici me lo dice Bozzo chi vuole la trattativa i socialisti che sono debolissimi il figlio di Moro dice registrato mio padre doveva mettere in conto che poteva essere ucciso perché faceva politica ma Paolo VI ha detto che la politica è la più alta forma di carità le lettere di mio padre non sono autentiche il figlio perché mio padre è stato drogato vi dimostrerò che non è così oggi abbiamo le prove che non è stato drogato Giuliano Vassalli che insegnava a Bari all'università con Moro dice solo chi non ha conosciuto Moro può dire che le lettere dal carcere non sono sue e Claudio Martelli socialista dice una cosa bellissima nelle lettere di Moro non c'è la richiesta a noi di salvare se stesso non è una apologia pro vita sua ma pro vita omnium lui si batte per la vita poi la vita sua poi quella dei desaparecidos sargentini all'epoca e dei sovietici rinclusi dei gulag lui ci dice che prima di ogni cosa viene la persona una cosa bellissima detta da uno che non era del partito di Moro due tentano la trattativa alcuni socialisti e Paolo VI il resto è facima a muina l'Ateneia Cossiga Andreotti Pecchioli per i PC non c'è dibattito all'interno della democrazia cristiana e del partito comunista nonostante ancora oggi ci siano ministri dell'epoca uno per esempio che dice a me vi faccio l'imitazione così voi capite chi è ma tu sei bravo hai studiato bene ma non capisci che io non potevo non capire tu non potevi capire perché non te le raccontavo ma io stavo al governo ma che significa non era il governo il luogo nel quale parlare del caso Moro ci sono dei generali dei carabinieri che ci hanno detto che quando arrivavano ordini diversi tra governo e Nato loro sentivano la Nato e non il governo e cioè noi per capire dobbiamo andare al 78 Demita presuntuoso più di me dice no se fosse vero me l'avrebbero detto dico ma che cosa allora io poi siccome lo devo pungere dico no la verità è un'altra che quando tu è nata segretario del partito comunista avete fatto al primo colpo Francesco Cossiga presidente della Repubblica Moro l'avete ucciso per sempre e muovirò che cosa fa Cossiga eletto presidente della Repubblica la verità sul luogo di prigionia sul rapimento e sulla morte di Moro è contenuta in un memoriale memoriale Morucci Faranda devo stringere quanto tempo mi dai quanto non ho capito perfetto mi adeguo è contenuta nel memoriale Morucci Faranda che non è stato scritto da Morucci Faranda ma da Cossiga Pecchioli i servizi segreti il giudice imposivato nel memoriale Morucci Faranda sta scritto la vicenda Moro c'è una dedica a Cossiga dei due brigatisti Morucci e Faranda la dedica c'è l'anno 86 Cossiga dice no lo ha avuto nel 90 tutti i brigatisti dicono lo ha avuto nel 90 noi scopriamo che Cossiga nell'88 l'ha passato ai servizi segreti il memoriale che l'ha scritto lui con imposimato e Pecchioni perché per dare agli italiani la verità dicibile sul caso Moro così gli italiani non quelli che volevano sapere avrebbero chiuso tutto lì sta scritto come è morto Moro e poi la magistratura ha assunto il memoriale come base è morto sul colpo no 40 minuti di agonia sul vestito di Moro qua si sta un rigurgito salivare deglutito da Moro vivo 40 minuti dopo essere stato sparato quanti colpi 11 no sono 12 quanti silenziati 4 no sono 10 l'avete ucciso nella Renault mi sta mettendo dietro i pitbull ma capisco i pitbull sono i cani che corrono l'avete ucciso nella Renault sì non è vero perché se tu uccidi uno nella Renault i colpi vanno dall'altro verso il basso e se tu uccidi uno nella Renault che ha questa mano con questo dito ferito da un colpo e questa mano nella Renault c'è l'acqua dietro significa che da qui sono entrati dei colpi non ci sono colpi che sono entrati da qui i colpi sono tutti circunnaviganti il cuore nella Renault non potrebbe entrare nel garage perché la Renault c'è il cofano basculante il garage dice che era la Saracinesca abbassata la Saracinesca abbassata la Renault stretta il cofano non si apre ma se tu apri la Saracinesca i brigadisti e la magistratura dicono che la Saracinesca era chiusa se è chiusa Mora non poteva entrare nessun condomino di via Montalcini il 9 maggio ha sentito rumori di spari i RIS sparano e si sentono a 500 metri i colpi quelli silenziati a terzo piano quindi la prigione non è via Montalcini chi l'ha sparato Moro? Giustino De Buono chi lo dice? Don Cesare Curioni cappellano capo militare delle carceri italiane un professore universitario un altro sacerdote perché è stato Giustino De Buono uomo dell'andrangheta calabrese? perché ha già ucciso altri con la tattica della rosata e Don Cesare che è morto non è che ce l'ha detto oggi l'ha detto nel 78 ma chi l'ha detto? al suo assistente e al suo allievo prediletto dopodiché Andreotti dice il suo assistente gli disse Don Cesare noi non dobbiamo mai parlare del caso Moro e l'assistente dice che trovato Andreotti in una manifestazione pubblica Andreotti gli disse noi siamo ormai gli unici due sopravvissuti del caso Moro l'assistente di Don Curioni e Andreotti la prigione non è via via Montalcini la prigione viene scoperta il 17 marzo del 78 dalla guardia di finanza è in via Massimi purtroppo è una palazzina dello York dove c'era un imprenditore libico una brigatista tedesca Gallinari uno dei Gallinari uno che partecipa all'omicidio Moro si va a nascondere nella palazzina dello York è la dependance di Marcinkus i custodi di Moro erano un ufficiale dell'aeronautica col patentino nato e l'allora moglie figlia del vicepresidente del CNR dell'epoca mai sospettati mai arrestati due brigatisti irregolari questo paese non si salverà la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se non sorgerà un nuovo senso da dovere io ci sarò sempre come punto di riferimento per evitare che del paese si faccia quel che se ne fa oggi scopo di ogni uomo non è realizzare perpetuamente la giustizia ma avere della giustizia sempre fame e sete ed è comunque un grande destino nessuno ci chieda dove inizia l'Europa e dove finisce il Mediterraneo perché l'Europa e il Mediterraneo sono la stessa cosa due ultimissime cose perché i cani abbagliano non mi riferisco a te ovviamente prima dalla chiesa viene ucciso dalla mafia ma per motivi di Moro non per motivi di mafia ce lo dice Totorina in un'intercettazione nel carcere di opera con un pugliese di Montemesola capo della Sacra Corona Unita ce lo dice la suocera di Dalla Chiesa al processo ce lo dice il procuratore capo della Repubblica che ci spiega perché la moglie di Dalla Chiesa è stata uccisa è la prima volta che la mafia uccide una donna per rubargli le chiavi di casa e dove abita Dalla Chiesa alla Prefettura di Palermo e che arriva prima di tutti la mafia e Totorina a questo della Sacra Corona Unita che dice siamo stati noi ad uccidere Dalla Chiesa non perché fotte forse il prefetto di Ferro ma per fottergli le carte di Moro registrato e Dalla Chiesa chi è? un generale dei Grabinieri a me dispiace tantissimo quando muore un cane figuriamoci una persona quindi io chiunque muoia sono addolorato mi è dispiaciuto per Dalla Chiesa mi è dispiaciuto per la moglie mi dispiace per tutte le persone che muoiono ingiustamente però la verità bisogna dirla Dalla Chiesa ha fatto domanda di iscrizione alla P2 il fratello di Dalla Chiesa è iscritto alla P2 e non fa il dipendente del comune di Brindisi fa il generale dei Grabinieri si chiama Romolo e non è giusto che Santoro nella trasmissione dica a me ma erano tutti iscritti alla P2 non è vero Moro non era iscritto alla P2 e tanti italiani non erano iscritti alla P2 e poi che stava nella cassaforte del generale Dalla Chiesa le carte di Moro e le bobine dice la suocera della Chiesa non io stagliati poi se la suocera è inventata al processo e come se ne è procurati non li poteva tenere nemmeno un generale può tenere dei corpi di reato sono stati rubati a via Montenevoso e è tutto scritto nel libro è venuto in commissione un famoso procuratore della Repubblica che di nome fa Armando e di cognome fa Spataro mi ha insultato in commissione ha detto ma lei che va facendo in giro per l'Italia a raccontare la verità questa commissione non serve a niente io gli ho detto la commissione è stata istituita con legge dello Stato io vado dove mi invitano dice è venuto anche la mia città ero stato invitato dal sindaco di Milano nella sala Alessi del Consiglio Comunale 1800 persone una cosa bellissima il giorno di San Valentino del 2015 e quello mi viene insultato a me dopodiché dico scusi dottor in commissione lei c'è un conflitto di interessi perché io nel 78 andavo all'università lei faceva le indagini sul caso Moro di Via Montenevoso quindi si astenga dal fare queste dichiarazioni perché lei è coinvolto come magistrato nella vicenda di Via Montenevoso lui dice io e dalla Chiesa abbiamo trovato tutta la verità dico guardi se l'aveste trovata noi non avremmo fatto la commissione in questo contesto sta il caso Moro dove non possiamo dare per scontato nulla e quello che vi ho detto è tutta materia approvata l'ultima cortesia innanzitutto ringrazio il sindaco l'amministrazione comunale sua eccellenza che mi aveva detto che aveva problemi e che invece è stato qui ad ascoltarmi sono veramente grato e tutti voi anche per l'attenzione che ci avete messo l'ultima cortesia è questa accanto al Grazie quando tornate a casa lo disse Papa Giovanni priva di me raccontate che Moro non è morto Moro è stato ucciso è una cosa sostanzialmente diversa ma che a differenza dei suoi carnefici quelli materiali e quelli morali Moro vive nel cuore e nell'intelligenza degli italiani che aspirano a un domani migliore di quello di oggi grazie penso che penso che l'onorevole Grassi abbia dato materia di spunto a tutti noi ci lasciamo con l'ultima parte del discorso tenuto da Moro a Brindisi come siamo lontani dall'epoca nella quale i paesi europei si facevano guerra tra loro molti oggi invece costruiscono in una pace sicura all'interno della grande frontiera europea che sostituirà a poco a poco le frontiere nazionali quindi siamo andati avanti abbiamo dato senso alla storia è tutta opera nostra opera di ciascuno di voi opera nostra e vostra cari amici che avete dato i vostri cuori e che state dando ogni giorno di più il senso della loro partecipazione civica e della presenza in una società universale quindi e con grande fiducia che mi rivolgo a voi cittadini di Brindisi elogiandovi per quello che avete fatto incitandovi ad essere ancora costruttori di libertà giustizia e pace grazie anch'io voglio ringraziare l'onorevole Gero Grassi che mi ha donato il suo libro del rapporto questo è la biblioteca gli atti della commissione parlamentare la biblioteca ecco questo è un libro prodotto dalla provincia di Brindisi scritto da Parizia Miano e Vittorio Bruno Stamerra che racconta diciamo l'impegno di tanti brindisini nella lotta antifascista durante il periodo della guerra l'alba della democrazia grazie grazie prego grazie buona serata a tutti